George, io so come farti passare il singhiozzo. Dovrai fare tutto quello che ti dico. Strofina la cima della testa insieme alla pancia. Perfetto, adesso il singhiozzo è sparito. Il rimedio di Peppa per il singhiozzo non ha funzionato. George, hai sbagliato tutto, come sempre. Conosco un modo migliore per farti passare il singhiozzo. Prima di tutto devi saltare su e giù per tre volte con una gamba sola. Adesso devi muovere le braccia su e giù in questo modo e tirare fuori la lingua così. E per finire, devi chiudere gli occhi e girare velocemente su te stesso per almeno tre volte. Anche l'altro rimedio di Peppa non ha funzionato. George ha ancora il singhiozzo. Ora so cosa fare per curare il singhiozzo. Bisogna spaventare per bene il maialino che ne soffre. George, ascolta, ora ti metterò un po' paura, ma devi ricordarti che è solo un gioco e che questo ti farà passare il singhiozzo. Ricordati bene che sto per spaventarti solo per finta. Peppa, lo sai che non devi giocare in questo modo con George. È ancora piccolo. Scusami mamma, ma stavo cercando solo di fargli passare il singhiozzo. Peppa, George, la mamma e il papà stanno facendo colazione. È una bella giornata di sole e Peppa e George non vedono l'ora di andare a giocare in giardino. Mamma, ora possiamo andare fuori a giocare? Potrete andare fuori a giocare quando avrete finito la colazione. George, non bere il succo troppo in fretta. George ha bevuto troppo in fretta e ora ha il singhiozzo. Adesso possiamo andare fuori a giocare? Non potete finché George ha il singhiozzo. Ma George è passato il singhiozzo, mamma. Non è forse vero, George? Va bene, potete andare fuori a giocare ora. Ma fa attenzione a George. Peppa e George adorano giocare in giardino. George, io adesso ti tiro la palla e tu devi riuscire a prenderla, capito? Smettila! Uffa con quel singhiozzo! George, ora basta! Coraggio, ora tocca a te tirarmi la palla e io la devo prendere. Non così, George! Oh no, il singhiozzo di George sta rovinando... Papà Pig fa volare l'aquilone. Urrà! Alla andare più in alto! Papà Pig fa volare l'aquilone molto in alto. Sì, ho un po' di esperienza in queste cose. Fa attenzione agli alberi! L'aquilone potrebbe impigliarsi. Non preoccuparti, so bene quello che sto facendo. Oh no! Papà Pig ha fatto impigliare l'aquilone su un albero. Oh no! Oh no! Non piangere! Vedrai che papà riprenderà l'aquilone. Urrà! Eh beh, dunque... Attenzione, c'è una grande pozzanghera di fango! Peppa e George amano saltare nelle pozzanghere. Possiamo saltare nella pozzanghera? Per favore! No, non voglio che vi sporchiate. State indietro ora, piccoli! Oh, cosa vedo nei miei occhi? Papà, papà! Indovina cosa abbiamo fatto io e George? Fatemi riflettere. Avete guardato la televisione? No, non è questo, papà! Avete appena fatto un bagno? No, non è questo! Ho capito! Vi siete divertiti a saltare nelle pozzanghere di fango? Sì, sì, papà! Ci siamo divertiti a saltare nelle pozzanghere! Oh, oh, oh! E avete combinato un disastro! Oh! State tranquilli, è solo un po' di fango. Dobbiamo pulirlo in fretta prima che la mamma se ne accorga. Papà, senti! Dopo che avremo pulito tutto, venite a giocare anche tu e la mamma fuori con noi? Certo! Possiamo giocare insieme in giardino. Peppa e George indossano le galosce. Mamma e papà indossano le galosce. Peppa ama saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Tutti amano saltare su e giù nelle pozzanghere. Oh, papà Pig! Guarda che disastro hai combinato! Sta tranquilla, è solo fango! Il papà porta la famiglia a fare un giro in campagna. Forza! Siamo tutti pronti? Sono pronta! Sì, papà, siamo tutti pronti! Però la macchina non è pronta! È talmente sporca! Ah, non è poi tanto male! Dovresti vedere come è sporca dentro, allora! Cattivo papà pasticcione! Cattivo papà pasticcione! Guarda un po' quanta robaccia c'è! Vecchi giornali! Sono miei! Caramelle! Sono le mie! Il signor dinosauro! Dinosauro! Dobbiamo assolutamente lavarla per bene prima di partire! Oh, come vuoi tu, mamma! Mamma, possiamo aiutarvi a lavarla? Sì, se ne avete voglia! Evviva! Il papà prende dell'acqua saponata per lavare la macchina. Il papà lava il tettuccio. La mamma lava il cofano. Peppa lava gli sportelli. Giorgio vorrebbe lavare i finestrini. Ma è troppo piccolo. Povero Giorgio. Lascia che ti aiuti. Fa' attenzione, papà Pig! So bene quello che sto facendo. Ti prego, fa' attenzione! Ancora un altro po' e ci sei, papà! Papà Pig, pesi davvero troppo per quel ramo! Che stai dicendo? Questo ramo può sostenere benissimo il mio peso. Ecco fatto! Urrà! Papà Pig ha ripreso l'aquilone. Wow! Oh no! Ora sono tutti coperti di fango. Tanto è solo fango. Fortunatamente papà Pig non si è fatto male. E l'aquilone è salvo. Urrà! Mamma, ora che siamo sporchi di fango, possiamo saltare nella pozzanghera? Credo proprio che possiate farlo. Tanto non potete sporcarvi più di così. E credo che il bucato questa volta lo farà papà. Oh! Peppa e George adorano saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Mamma e papà adorano saltare su e giù nelle pozzanghere di fango. Tutti adorano saltare nelle pozzanghere. Saltare su e giù nelle pozzanghere è divertente quanto far volare l'aquilone. Io sono Peppa Pig. Io sono Peppa Pig. George, di qualcosa tuo adesso. Peppa e George fanno finta di essere dei pappagalli. Peppa pensa a qualcos'altro da dire a Polly. Io sono un pappagallo rumoroso. Io sono un pappagallo rumoroso. Peppa, George, vi piace giocare insieme a Polly? Sì, molto. Polly fa tanta tanta compagnia. È vero, nonna. Io sono un pappagallo intelligente. Io sono un pappagallo rumoroso. Io sono un pappagallo rumoroso. Oh, non posso crederci. Peppa ha trovato una potenza. una pozzanghera piccola. George ha trovato una pozzanghera grande. Guarda là, George. C'è una pozzanghera davvero grande. George vuole saltare per primo nella pozzanghera grande. Aspetta un attimo, George. Devo controllare che tu non corra pericoli. Perfetto, non corri alcun pericolo. Scusami tanto, George, ma è solo fango. Peppa e George amano saltare nelle pozzanghere di fango. Peppa ha trovato la scatola dei trucchi della mamma. Un po' di cipria. Meraviglioso. E adesso un po' di rossetto. Guarda che bella mamma Pig. Muoviamoci, papà Pig. È ora di andare a lavorare. Mamma Pig sta lavorando al computer. Ciao, Peppa. Ciao, George. Come ha detto, mi scusi? Peppa, vi stavo solo salutando. Io non sono Peppa Pig. Sono mamma Pig. Oh, sì, certo. Buongiorno, mamma Pig. Buongiorno. Le presento papà Pig. George. Buongiorno anche a lei, papà Pig. Deve scusarmi, ma ho molto lavoro da sbrigare. Pronto? Sì. Faccia questo, faccia quell'altro. No, grazie. A presto. Peppa si diverte molto a far finta di essere mamma Pig. Invece George si sta un po' annoiando. Scusami, papà Pig. Ho quasi finito. Ecco, ho fatto. Forza, vieni, papà Pig. Ora tocca a te lavorare un po'. A presto, papà e mamma Pig. Sì, a presto. Andiamo a guardare se sono nel bagno. Peppa e George vanno a guardare nel bagno. Gli occhiali non sono nella vasca. Gli occhiali non sono nel water. È troppo difficile trovarli. Peppa e George non riescono a trovare gli occhiali del papà da nessuna parte. Abbiamo guardato dappertutto, mamma, ma non siamo riusciti a trovare gli occhiali di papà. Oh, che seccatura. Adesso cosa possiamo fare? Immagino che dovrò imparare a fare a meno dei miei occhiali. Se mi muovo lentamente, non inciamperò nelle cose. Le ho trovati! Ho trovato gli occhiali! Papà Pig, sei stato seduto sopra gli occhiali tutto il tempo. Oh oh. Papà Sciocchino. Non so proprio come siano finiti lì. Me lo sto chiedendo anch'io. Beh, forse sei un po' smemorato, papà Pig. Ma almeno ora hai smesso di essere così nervoso. Io non ero affatto nervoso prima. Peppa e la sua famiglia vanno a trovare nonna e nonno Pig. Ciao, nonna Pig! Ciao, nonno Pig! Oh, noic! Oh, noic! Che bello vedervi, piccoli miei! Venite dentro! Abbiamo una sorpresa per voi! Che sorpresa è, nonna? Abbiamo un nuovo animaletto! Riuscite a immaginare cos'è? Dinosauro? No, non si tratta di un dinosauro piccolino. Venite a vederlo! Nonna e nonno Pig hanno un pappagallo domestico. Peppa, George, ecco il nostro pappagallo domestico. Il suo nome è Polly. Bellissima Polly! Bellissima Polly! Sono un pappagallo intelligente! Sono un pappagallo intelligente! Mamma, scusa, perché Polly ripete tutte le parole che dice la nonna? Perché è quello che fanno i pappagalli. Ti faccio vedere. Come stai, Polly? Come stai, Polly? Che pappagallina deliziosa! Che pappagallina deliziosa! Andiamo, venite tutti con me! È l'ora del tè! Papà Pig scava in giardino. Ciao, Peppa! Ciao, George! Io non sono Peppa, sono mamma Pig! E lui è papà Pig! Papà Pig è qui per lavorare un po'. È gentile da parte tua, papà Pig. Ma fa attenzione, è una buca molto profonda. Spero proprio che tu non ti sia messo a scavare con indosso il vestito elegante, papà Pig. Lo voglio fare anch'io, un grossissimo grugnito. Gelato per tutti! Il gelato! Peppa, George, dovete togliervi questi vestiti infangati prima di mangiare. Io sono mamma Pig e lui è papà Pig. Ne sei sicura? Certo! E allora dove sono finiti Peppa e George? Noi non lo sappiamo. È un peccato perché ho qui il loro gelato preferito. Ma se non riusciamo a trovarli... Siamo qui! Peppa! George! Ma siete voi? Sì, mamma. Stavamo solo facendo finta di essere te e il papà. Ci siamo cascati in pieno! Il singhiozzo di George è passato. Ecco che arriva papà Pig con due bicchieri di succo di frutta. George, se bevi troppo in fretta il tuo succo, ti verrà di nuovo il singhiozzo. Dato che io non sono piccola come George, posso bere il mio succo di frutta velocemente se voglio farlo. Dato che io non sono piccola. Il papà lucida la macchina talmente bene che ci si può specchiare. Che faccia buffa? Altre facce buffe. Sono Peppa e George. E anche la mamma. Ma che bella macchina lucida! Sì, sono proprio un esperto in queste cose. Andiamo! Guido io oggi. Siete pronti a partire? Siamo pronti! E allora si parte! Spero che oggi terrete la macchina pulita. Sì, mammina. Certamente, mamma. Mamma, ora sei tu che hai sporcato di nuovo la macchina, però. Cattiva mamma. Cattiva mamma pasticciona. Giorgia è riuscito a trovarmi. Adesso tocca a papà a nascondersi. Oh, io penso che Giorgia debba avere un altro turno. Ma lui non è molto bravo a trovare dei nascondigli. Sono sicuro che sarà più bravo questa volta. Chiudi gli occhi e comincia a contare, Peppa. Uno. Due. Oh, no! Così Peppa troverà Giorgia molto facilmente. Cinque. Giorgia. Sei. Vieni subito qui. Sette. Otto. Nove. Dieci. Ho finito di contare. Vengo a cercarti. Questa volta non si è nascosto sotto il tavolo. Come può essere? Lui si nasconde sempre sotto il tavolo. Perché non provi a guardare al piano di sopra? Ora ho capito dove si trova. Giorgia è nella cesta dei giocattoli. Giorgia non è nella cesta dei giocattoli. Ma dove può essere? Peppa non riesce a trovare Giorgia da nessuna parte. Scusa papà, non riesco a trovare Giorgia da nessuna parte. Ma non mi dire, chissà dove è andato a nascondersi. Per la verità, credo che sul giornale ci sia una notizia che riguarda Giorgia. Tadà! Giorgia! Tanna per te! Complimenti, Giorgia. Quello sì, che era un bel nascondiglio. Giorgia è rimasto nascosto dietro il giornale di Papà Pig per tutto il tempo. Leggo merda più in cui Siполi6 Giorgia è rimasto Giorgia è rimasto Giorgia è rimasto Giorgia della conseguenza All'inteno Giorgia è rimasto Mel grande Mal grande Maguro Glorina Giorgia il Grazie a tutti. 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 Oh no. Grazie a tutti. Grazie a tutti. e a tutti. Ne sei sicuro? e... indovinare che cos'è. Io vedo con i miei occhietti qualcosa di colore rosso. Rosso? È il mio vestito allora, ce l'ho rosso. No, non è il tuo vestito. È la macchina. Sì, brava, la nostra macchina rossa. A me adesso. Io vedo con i miei occhietti qualche cosa di colore blu. La maglietta di George è blu. No. È qualcosa che riguarda la macchina? No, vi arrendete? Certo. Il cielo. Il cielo è tutto blu. Ho vinto. È una bella giornata di sole e Peppa e George vanno in bicicletta. È davvero una bella zucca, Papà Pig. Papà Pig è orgoglioso della sua zucca. Le zucche sono l'unica cosa che riesco a coltivare. Forse perché vado matto per la torta di zucca. Brigati, George. Danny, Susie, Rebecca. Peppa e i suoi amici Danny Dog, Susie Sheep e Rebecca Rabbit vanno in bicicletta. George pedala sul suo triciclo. È lento come una lumaca. Facciamo una gara fino alla zucca di Papà Pig? Se facciamo una gara fino alla zucca di Papà Pig, dobbiamo stare molto attenti a non andare a sbatterci contro. Papà diventerebbe molto triste se la sua amata zucca si rompesse. Non ti devi preoccupare, Peppa. Forza, inizia la gara. Peppa e i suoi amici fanno una gara fino alla zucca di Papà Pig. Ehi, state attenti ragazzi! Ho vinto io! Peppa, fa attenzione, c'è la zucca di papà! Ho fatto attenzione. Guardate George come pedala, va piano piano. George va ancora su una bici per bambini piccoli. Anche la tua è una bici da bambini piccoli, Peppa. Guarda, hai ancora le rotelle attaccate. Io so andare in bicicletta senza le rotelle. Anch'io lo so fare. Anch'io! Avanti, torniamo tutti sulla collina. Vieni con noi, Peppa. No, penso che sia meglio se resto qui. Ci vediamo dopo, Peppa. A dopo.